Buonasera signori e signori sono Sce88, benvenuti quest'oggi in un luogo un po' differente da dove ci avevamo lasciati su Pokémon Y perché sono nella Sala delle Fiamme. Che cos'è la Sala delle Fiamme? È la prima entrata appunto della Lega Pokémon e la via più diretta per affrontare la campionessa di questo gioco. Finalmente ci sono arrivata la Lega Pokémon, ci sono giocato un po' per conto mio e voglio dire che la squadra che ho fatto non è andata male. Anzi, adesso me la faccio vedere. Allora abbiamo, cavolo, storto come mai, Greninja al 63. Vi faccio vedere, facciamo così vai, a me si fa prima. Allora, Greninja al 63 con Strasenso, Surf, Crescipugno, Geloraggio. Abbiamo Flareon con Foss, Lava Sbuff, Attacco Rapide, Forza. Lucario con Dragopulzar, Danza Spada, Forza Sfera e Orso Rapida. Venasauro al 62 con Sloccatore, Sonnifero, Parassi Seme e Fior Tempesta. Staraptor con Attacco Rapido, Aero Assalto, Volo e Zuffa. E Tyrantrum con Terremoto, Dragartigli, Sgranocchio e Rocciotomba. E ci sono arrivato ieri sera alla Lega Pokémon e mi sono detto, beh, quasi quasi... Faccio il video, appunto, contro i Super 4. Quindi andiamo ad affrontare la prima. Spero, ecco, vi piaccia, vediamo un po'. Allora, benvenuto nella sala delle fiamme della Lega Pokémon. Io sono Malva, sarà un olore lottare con te. Bene, partiamo con la prima sfida. Eccola qua, Malva, la prima Super 4, diciamo. Manderà Pyroar davanti. Ok. Perfetto. Abbiamo Greninja. Utilizziamo Surf a sto punto. Ecco, la manda davanti, vabbè. Vediamo, vediamo, vediamo. Grandissimo, è super efficace, ovviamente. Grandissimo Greninja. Ok. Talon Flame, l'uccello di fuoco che abbiamo depositato noi. Quindi vediamo un po'. Usa Baldeali. Sicuramente ci farà del danno, ma... Vedrete che il Contracolpo, infatti, che subisce è abbastanza grande. Utilizziamo Surf di nuovo. Perfetto. Perfetto. Per defiantare un Flame era il Pokémon da livello più alto che aveva. Perfetto. Manderà Torkoal. Torkoal che ritroveremo a breve su Pokémon Omega Rubino. Vediamo Surf di nuovo con Greninja. Perfetto. È super efficace, ovviamente. Perfetto. Greninja sarà a livello 64. Flareon sarà a livello 65. Ottimo. Staraptor sarà a livello 65. E poi Mandela Chandelure. Anche questo, se vi ricordavate, Pokémon molto forte nelle precedenti edizioni, ma contro il serve del nostro Greninja non c'è storia. Mandato a K oppure questo, credo che era l'ultimo. Esatto. Abbiamo sconfitto, quindi Malva la prima Super 4. Adesso vi farò, appunto, per ogni Super 4 un video, fino ad arrivare alla campionessa. Straordinario. Quando tu e la tua squadra avete conquistato la Lega Pokémon, difenderò la notizia in tutto il mondo di allo Lolovox. Se sconfiggerai gli altri 3 Super 4, potrai sfidare la campionessa. L'ascensore ti riporterà nella sala dove sei venuto. Adesso ve la faccio vedere perché io, ovviamente, ieri sera sono entrato direttamente qui dentro. Eccola qua, perché la sala delle fiamme è bellissima l'intro. E poi l'ascensore ci teletrasporta praticamente alla sala principale. Quindi spero che la parte contro Malva, la Super 4, la prima Super 4 vi sia piaciuta. Votate, commentate, iscrivetevi, un ciao, lasciate al dato. Ciao ragazzi.